Quando i vorrei diventano voglio, quando i dovrei diventano devo, quando i primi o poi diventano adesso, allora e solo allora, i desideri iniziano a trasformarsi in realtà, dall'arena del bagno delfino, la finale del doppio femminile. Sono le campionese del mondo in carica, sulle mani per Federica Mazzetta e Giulia Gasparri! Sono potenti, sono campionese del mondo in carica, sono loro, Sofia Cimatti e Famiglia Deina! E ci siamo noi, voglio dettivo, prochi per questa piramissima! Sarà Sofia, Cimatti, vai in intera il match! Prima partita! Altre porte Sofia, viva il bilanciere di Pagania con l'ingresso di Sofia! 11-0! E' lungo per il servizio di Sofia! 12 pari! Scarca il braccio Flaminia dall'alto, la difesa di Federica è lunga! 30-15! Brava! Brava! Una ricorsa a rete di Sofia! Recupero nuovo altissimo! Lo smash di Giulia si fermerete! 30-15! Ancora dall'alto, scarica il braccio Flaminia! Cimatti Deina, un gioco a zero! Vai DJ! Ciao! Scusa io eh Forza eh Giulia Gasparri Servizio Giulia si tornerete 0-15 Scusa il servizio Giulia 0-30 Scusa Scusa Giulia Federica con la sua sfida 10-30 Scusa Voi Vai Voi 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 Scusa Voi 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 Il Voi Voi Via Voi 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 Forza eh Voi Anticipa, 90 metodo, Flaminia Gioco Dainia Cimatti, due giochi a zero A servizio, Flaminia Daina E recupero di Flaminia, Marche Smash di Giulia Salta si coordina, per 15 Ok, buona, buona, buona Buona, vai Ottimo il minucere di Fede Alla di Sofia è out 20-30 Flaminia Vinta una spinta, fa un lob Vincere di recupero per Federica Entra pari Prima, Flaminia con servizio Poi il rovescio alto di Sofia Grazie 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 Inizio Federica Bacchetta Vai Vai Grazie 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 Booker Grazie 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 Vai Adietro Machu cerca di coordinarsi da lato Giulia sul tentativo di smash è lungo 15-0 forza 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 è forte potente centrale vincente forza il centro del campo carica forza 30-0 forza 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 ottimo il bilanciere incrociato di vede dica 30-15 si spegnerete il servizio di Sofia vede da pari è buona è fuori Federica compagna alto il servizio di Sofia 30-40 è ancora lungo questo servizio di Sofia gioco è il primo game pacchetta casparri la cifatti conducono 4 giochi a 1 ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come si coordina perfettamente su una gamba sola Giulia, invece di gestire da l'alto questa palla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cinque giochi a uno. Buon servizio. Grazie a tutti. 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 Giulia. Grazie a tutti. 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 ci siamo è la prova delle curve curva finessa ci sei? curva finessa ci sei? curva finessa ci sei? curva finessa ci sei? curva finessa curva finessa mare stra vittoria Lorenz abbiamo vinto facile noi 1-0 per Fendi 1-0 grazie, grazie io regalo grazie 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 15-30 grazie 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 Vederica Bacchetta al servizio 0-15 Vederica Bacchetta al servizio 0-15 0-15 0-15 0-15 è buono il controllo di Giulia l'armata di Flaminia 30-15 potente lo smash di Flaminia dal lato 30 pari in auto il bilanciere incrociato di Flaminia 40-30 grazie 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 prima la difesa poi lo smash in lungo linea Giampo Mietta Gasparri due giochi a zero grazie 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 a tutti. 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 10-30. Grazie a tutti. 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 Mamma mia. Grazie a tutti. 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 Mamma mia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. 30-10. Grazie a tutti. Grazie a tutti. forza. 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 Sofia, forza. 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 vai sopra. vai, 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 vai. Yeah. forza. 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 . forza. 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 si è servito di Giulia, la bandierina del giudice di linea, la play out, 15 pari 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 la play out, 15 pari, 16 pari, 100 pari, 15 pari Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.